Qual è il contributo che la Federazione dei Cavalieri del Lavoro può fornire per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano? Io credo che vada aumentato il senso di comprensione delle difficoltà in cui la cultura italiana e soprattutto il mondo dell'arte opera. Opera difficoltà che nascono dall'assenza di risorse finanziarie, dall'inadeguatezza delle risorse finanziarie e anche dal rapporto molto particolare fra pubblico e privato che in Italia si è instaurato e che non consente al privato di sviluppare con piena efficienza e piena determinazione le sue potenzialità. Il sistema della cultura in Italia opera su dei bilanci che sono quelli del Ministero che sono estremamente ridotti e che sono stati tagliati nel corso degli anni. Il privato non ha un quadro di certezze giuridiche, anche se oggi è stato fatto molto perché con Franceschini si è migliorato la situazione, ma non ha un quadro di certezze giuridiche che consentano di contribuire in modo fattivo allo sviluppo delle potenzialità del mondo dell'arte che peraltro è fondamentale in Italia. Quindi ecco, io credo che la federazione con queste iniziative possa promuovere una consapevolezza di cui c'è molto bisogno in Italia. E lei quindi quale modello di governance dei luoghi d'arte immagine? Io credo che non esistano soluzioni semplici e ogni paese del mondo ha sperimentato soluzioni alternative. In Francia dove c'è una forte presenza pubblica ci sono state delle iniziative con il privato molto importanti, cito per esempio tutta la vicenda del grande Louvre. Negli Stati Uniti l'iniziativa del privato però gode di un supporto del pubblico, quindi ci sono diciamo molte varianti del rapporto tra pubblico e privato sulle quali bisogna indagare per capire quale sia il modello che meglio si adatta al nostro paese. Grazie a tutti.